Chi sono? Che ci faccio qui? E qual è il senso? Non sto avendo una crisi d'identità, sono domande che tutti noi ci facciamo e che continuiamo a fare senza sosta e sempre più di frequente. Siamo in un mondo confuso, mutevole, dai ritmi infernali, che ci costringe a scegliere a un certo punto della vita se andare a sbattere contro il muro della rassegnazione o della depressione, o se arrabbiarci con il mondo, o ancora, per quei pochissimi fortunati illuminati, se riuscire a trovare una dimensione di pace, dove non farci toccare dalle tante brutte cose che, purtroppo, succedono attorno a noi. Io sono Pietro, questo è il podcast di Italiano Avanzato e, come avrete capito, oggi non parleremo di grammatica. Ci vediamo dopo la mia armonica. La prima cosa che tutti noi cerchiamo di fare quando le cose non funzionano è trovare un colpevole. Io stesso, senza essere ipocrita, lo dico, cerco costantemente di individuare ciò che non va, le cause del dolore, dei problemi, delle disgrazie e, come tutti, siamo molto efficienti in questo, riesco sempre a trovare qualcuno o qualcosa a cui dare la colpa. È una caratteristica umana. Non c'è niente di male ad ammetterlo, però finché ne siamo consapevoli. E quali sono i colpevoli che tutti noi riusciamo a trovare senza sforzo? La politica, le persone, le persone stupide, le persone ignoranti, tra l'altro, parentesi, le persone stupide e ignoranti per qualche strana ragione sono sempre gli altri. E poi, ancora, il giornalismo, i social. E quando esauriamo i colpevoli umani, ecco che la colpa allora è di Dio, dell'universo, del destino e della politica. Torniamo sempre là. Perché lo facciamo? Perché cerchiamo un nemico? Secondo me ci sono due ragioni principali. La prima è il fatto che istintivamente, quindi proprio a livello animale, quando ci troviamo di fronte a un problema, uno dei modi per risolverlo è ovviamente individuarne le cause. E inevitabilmente lo facciamo in modo istintivo, perché la nostra sopravvivenza dipende anche dalla velocità con cui rintracciamo le origini di un problema. La seconda ragione di questo nostro comportamento, invece, è più psicologica. Quando troviamo un nemico, abbiamo qualcuno da additare come cattivo, qualcuno su cui addossare tutte le responsabilità, sentendoci di conseguenza noi più leggeri e tranquilli con la nostra coscienza. Sentendoci anche più buoni, perché i cattivi sono gli altri. È bello convincerci di poter trovare facilmente le cause dei nostri problemi, è bello fidarci del nostro giudizio imparziale, è bello credere di essere in grado di analizzare la realtà in modo chiaro e preciso. È bello, ma non è verosimile, ecco. Ci sono due grandi ostacoli. Da una parte, noi non siamo così efficienti come crediamo, e anzi, spesso siamo abbastanza superficiali, se non troppo superficiali. Però questo è dovuto in parte a quello che dicevo prima, cioè la necessità di trovare in fretta un colpevole. Non c'è tempo per gli approfondimenti. Secondo, il mondo che ci circonda è il risultato di una complessa rete di fattori, un'inestricabile serie di rapporti causa-effetto, che rende quello che accade a volte impossibile da decifrare, da comprendere, da scomporre nelle sue cause primarie, perché troppi fattori in gioco. Anche fattori lontanissimi, complessi, controintuitivi. E noi non siamo né onniscienti, né in grado di gestire quantitativamente tutta questa complessità. riusciamo a malapena a capire come ci sentiamo oggi, di che umore siamo. Alcuni non riescono neanche in questo. Figuriamoci capire il mondo intero. Per tale motivo, anche se abbiamo trovato, ecco, un nemico da incolpare quando le cose non vanno, il risultato è un senso di frustrazione e impotenza, perché in fondo sappiamo che non stiamo davvero risolvendo nulla. E allora ci arrabbiamo, litighiamo sui social, urliamo tweet in stampatello maiuscolo e poi leggiamo i commenti di altre persone arrabbiate che rispondono a noi e ci nervoseamo e diventiamo ancora più incattiviti in quello che è un circolo vizioso. Sentiamo di non poter piegare la realtà al nostro volere. Ci sentiamo inadeguati, insoddisfatti e rischiamo di arrenderci, di dire non posso farcela, non c'è niente che abbia un senso. Quante volte abbiamo detto nella nostra vita questa frase? non ha un senso. Lo dico io, lo dicono i miei studenti quando incontrano per la prima volta il congiuntivo oppure si disperano con le preposizioni e dicono la lingua italiana non ha senso. A parte questa situazione simpatica, però provate a pensare a quanti contesti questa frase può essere applicata. Lo diciamo in famiglia, lo diciamo a lavoro, con gli amici, lo diciamo davanti alla politica, lo diciamo davanti a una guerra, lo diciamo davanti alla morte. Non ha senso. Insomma, di fronte a questa nostra incapacità, ripeto, di trovare un senso, la reazione più semplice è quella di smarrirsi, fermarsi, perdere la forza di andare avanti, perdere la determinazione. Poi, un altro fattore che contribuisce a peggiorare lo scenario è questo. Le generazioni nate dopo la seconda guerra mondiale, io penso non sono abituate alla sofferenza. Parlo in generale, ovviamente, ma la società occidentale non soffre poi tanto, non soffre la fame, ha tutte le comodità che vuole, è stata coccolata, viziata dai genitori. Una delle mie teorie, tra l'altro, è che l'attaccamento degli italiani alle mamme e in generale alla famiglia sia dovuto al fatto che, a parte il ruolo sociale che la famiglia ha sempre avuto in passato, i nostri nonni non avevano nulla, se non un terreno da lavorare con tanta fatica o un mestiere artigianale che non portava certo alla ricchezza. E dunque, quando con il boom economico, le persone hanno iniziato a stare bene dal punto di vista appunto economico, monetario, diciamo meglio materialistico, con tanto amore e buona fede cercavano di dare ai propri figli tutto quello che loro stessi non avevano avuto e anche di più, proteggendoli nel frattempo dalle insidie e dalle sofferenze del mondo esterno. Perché loro, i nostri nonni, avevano conosciuto la vera sofferenza. E dunque, ci sono state generazioni di uomini e donne che hanno avuto tutto e non hanno vissuto grandi tragedie, sempre generalizzando, sia chiaro. questo le ha portate a disabituarsi alle tragedie e quando queste avvenivano e dunque quando la sofferenza si presentava, quando ancora oggi la sofferenza si presenta, ecco che ci trova impreparati fisicamente e soprattutto psicologicamente. Cosa fare dunque di fronte alla mancanza di un senso, di fronte alle sofferenze che ci affliggono? Deprimerci è l'unica strada? Ovviamente no, anche se come dicevo è molto semplice oggi cadere nella depressione perché è un'azione passiva. Cosa significa? Significa che si può cadere nella depressione senza fare nulla di particolare semplicemente aspettando che questa ci trovi e non deprimerci che richiede invece uno sforzo costante e attivo. Io leggo dati molto preoccupanti aumentano le crisi aumentano le nevrosi gli attacchi d'ansia le paure l'isolamento ancora una volta poi i social non è che aiutino poi tanto però io sono di parte si è capito che non amo i social vero? Un altro tipo di reazione a questo caos alla mancanza di un senso è la rabbia non intendo però la rabbia di cui parlavo prima quella dove si grida soltanto per fare sentire la nostra voce in mezzo a una giungla di altre voci no io parlo di una rabbia che è più simile a quel senso di ribellione che ci prende quando vediamo un'ingiustizia e quindi prima diciamo questo non ha un senso ma subito dopo passiamo a un più gestibile questo non è giusto anche solo intuitivamente capite che è molto più facile correggere qualcosa di sbagliato che trovare un senso a qualcosa che non capiamo e se c'è un'ingiustizia questa rabbia ci spinge a combattere a dare un contributo affinché tale ingiustizia venga risolta qualsiasi tipo di contributo anche il solo discutere di un'ingiustizia con un'altra persona può aiutarci a sentirci meglio perché discutere significa anche in qualche modo sensibilizzare qualcun altro su un problema possiamo ricevere consigli dalle altre persone parlandone e in fondo è anche inevitabile pensare che più siamo più ne parliamo più facilmente riusciremo a riparare un'ingiustizia io in passato ho avuto tanta rabbia una rabbia più negativa da questo punto di vista nel contesto della politica io stavo male per le schifezze che vedevo per la costante consapevolezza che i politici italiani non avevano e non hanno ancora alcuna intenzione di prendere decisioni coraggiose lo testimonia tra l'altro anche la recente rielezione del presidente Mattarella pensateci nella storia della repubblica italiana il presidente non è mai stato eletto per due volte di seguito se non con gli ultimi due presidenti tutti i presidenti hanno avuto un unico mandato che tra l'altro dura sette anni e alla scadenza del loro mandato si è sempre trovata un'altra faccia o un'altra voce ma con gli ultimi due presidenti napolitano e mattarella è successa un'altra cosa alla fine del loro mandato sono stati rieletti a causa io penso della mancanza di idee della mancanza di iniziativa dei parlamentari e dunque niente da dire contro il presidente Mattarella ovviamente ma sono questi politici italiani che farebbero perdere la pazienza persino a Gandhi tergiversano temporeggiano ogni tanto una legge per accontentare qualcuno ma mai nulla di davvero innovativo o al passo con i tempi ed io ero arrabbiato un po' si sente lo sono anche ora mi sono fatto tante litigate con mio papà per esempio per questo e se da una parte questa rabbia mi è servita con il tempo per trovare forza specialmente coerenza nelle scelte che ho preso nella vita dall'altra ho anche capito che non aiutava per nulla a risolvere il problema alla base arrabbiarmi non avrebbe reso migliori i politici cosa voglio dire con questo voglio dire che arrabbiarsi può anche essere terapeutico possiamo imparare qualcosa dalla rabbia possiamo rafforzare la nostra personalità da un certo punto di vista però non è un modo per risolvere i problemi o più generalmente per trovare un senso alle cose e attenzione se non riusciamo poi a gestire questa rabbia cioè anche a crescere a capire che litigare con le altre persone non è un progresso e anzi uno stress la nostra salute ne pagherà le conseguenze quindi arrabbiamoci sì ma a piccole dosi arriviamo perciò al terzo punto fondamentale di questa riflessione a un certo punto della nostra vita dobbiamo imparare a distaccarci distaccarci dalle cose che non hanno un senso o in cui non troviamo un senso allontanarci dalle cose che non vanno prendere le distanze da tutto ciò che ha un impatto negativo sulla nostra percezione del mondo io non sono qui oggi a dirvi come poter fare questo anche se voi adesso starete pensando ma Pietro tutto questo discorsone filosofico tutto questo in Italia si dice pippone e alla fine non ci dai una soluzione esatto e non perché questa soluzione sia un segreto che voglio tenere gelosamente per me anche se è pieno poi di persone che magari su queste cose ci fanno anche i soldi senza troppi scrupoli con miracolose ricette per la felicità no penso che trovare un equilibrio con il mondo dipenda esclusivamente da noi stessi immaginate una bilancia su un piatto c'è il mondo sull'altro ci siamo noi per trovare questo equilibrio quando non riusciamo a comprendere tutto il significato e le informazioni e il senso del mondo concentriamoci sull'altro piatto della bilancia noi impariamo a conoscerci a capire chi siamo cosa pensiamo come pensiamo e cosa vogliamo stabiliamo anche dei confini tra noi e il mondo cosa che non significa però isoliamoci significa invece fin dove le cose che succedono nel mondo possono disturbare la mia quotidianità e la mia pace un esempio banale io amo leggere tanta gente si lamenta del fatto che non ha mai il tempo di leggere perché ci sono troppe cose da fare troppe cose a cui pensare io credo invece che sia tutta una questione di priorità e dunque se io voglio leggere perché leggere mi dà piacere e mi fa stare bene la lettura avrà la priorità persino sul mio lavoro sembra una frase estrema questa da dire ma non lo è non lo è se la prendiamo nel suo significato primario che è noi siamo la nostra priorità non il mondo non i problemi del mondo io poi ho anche la fortuna di avere un lavoro che mi piace molto però so che non è così per tutti e è facile spesso sentirsi schiacciati la pesantezza delle cose però la possiamo battere con la leggerezza dei nostri pensieri perciò se dico che io non ho una soluzione da offrirvi è proprio perché ognuno di noi può arrivare a trovare una sorta di equilibrio sì però in modo differente a seconda del carattere a seconda delle esperienze delle relazioni che si hanno non esiste una strategia o un metodo che vale per tutti quando non troviamo un senso nelle cose che succedono nel mondo forse perché stiamo cercando nella direzione sbagliata troviamolo invece prima dentro di noi e poi quando lo avremo trovato forse avremo anche più potere sul mondo di quanto non pensassimo in precedenza vorrei aggiungere un'ultima cosa a completamento di questo discorso forse non è neanche poi così necessario trovare questo equilibrio per stare bene se ci pensiamo bene è una cosa che pochissimi riescono a fare e la nostra società non è assolutamente di aiuto però io credo che anche anche solo il tentativo di guardare dentro noi stessi di mettere noi stessi come priorità sia sufficiente a vivere una vita più armoniosa o a guardare il mondo con occhi diversi tentare quindi è secondo me abbastanza per noi comuni mortali e nei momenti di maggiore difficoltà ripetete questo a voi stessi c'è solo una cosa nel mondo che davvero non ha un senso la grammatica italiana bene un podcast molto differente quest'oggi ma mi piace parlare di tanti argomenti differenti e dare la mia opinione su tutto specialmente quando non è richiesta io sono Pietro e questo era il podcast di Italiano Avanzato io vi rimando alle nostre altre pagine su Instagram YouTube Patreon e vi do appuntamento alla prossima settimana a presto e ciao ciao